Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro mantiene la promessa, il fatto ha soli tre giorni dalla fine del GF VIP. Dopo la fine delle reality più chiacchierato d'Italia, Daniele Dal Moro ha deciso di portare Oriana Marzoli nella sua città natale, Verona. Sui social sono spuntate le foto, in una in particolare, i due ragazzi appaiono felici in città e Oriana indossa la felpa di Daniele. Finalmente l'ha portata anche qui, ha commentato un utente su Twitter. Loro che in tre giorni hanno paccato, già elebrado per il pranzo. La festa degli incorvassi, noi stanotte in room, ha commentato un altro utente. Sottolineando come i due si siano voluti ritagliare del tempo tutto per loro, senza distrazioni. La grande festa per i concorrenti annunciata da Alfonso Signorini è invece stata annullata per le condizioni di Silvio Berlusconi. Daniele ha mantenuto la promessa che le fece. Oriana infatti aveva confessato i pieni delle ragazzo a Gelo e Milena, andare a Verona. Lasciare le valigie e volare insieme a Madrid. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolish in Italy, music, summer from Bensound. Leggi anche, Oriana fa una scenata di gelosia a Daniele per colpa della murgia. Nicole risponde alla critica sui social, come ha reagito? Faccio, per gentile concessione dell'ufficio stampa, anche se si no ha funzionati. Passcio, per gentile concessione dell'ufficio stampa and Islato, per gentile concessione dell'ufficio stampa e vs. Grazie a tutti.